buongiorno a tutti leggeremo oggi il secondo canto del purgatorio che come il primo è un prologo alla cantica come peraltro lo sono i due primi canti dell'inferno e del paradiso per le rispettive cantiche il primo del purgatorio è un canto di passaggio per l'ingresso nel nuovo regno con l'incontro con una nuova realtà un nuovo guardiano una nuova dimensione tutti elementi segnalati da un rito di passaggio vera e propria liturgia che inaugura un nuovo inizio sotto un insegna dell'umiltà e della rinascita una nuova fioritura dell'essere che come il giunco in purgatorio può rinovellarsi di novella fronda per divenire puro e disposto a salire alle stelle diversamente il secondo canto immette subito in questioni determinanti per le prospettive teologiche e poetiche fondamentali per tutto il poema ma il clima è ancora quello dell'incertezza della sospensione quasi dello smarrimento in questa nuova dimensione dell'essere che prelude ad una realtà superiore tutta da scoprire mentre ancora non si riesce ad abbandonare quella terrena per cui viene avvertita dai personaggi in campo una forte nostalgia il canto il secondo si struttura chiaramente in due parti anticipate da una introduttiva che presenta le coordinate spaziali temporali il tempo e luogo dell'azione con la determinazione del momento preciso del giorno per mezzo di una perifrasi che non solo punta sulla precisione dei dati ma offre uno sguardo sull'intero globo diviso tra il giorno e la notte e riassume in estrema sintesi astronomia geografia storia sacra e mitologia essa ha come esito una nota paesaggistica che punta sul colore e sulla luce l'attenzione prestata al cambiamento del cielo progressivamente già segnalato nel primo canto del purgatorio dai versi 13 18 e 115 117 indica bene il valore anche figurale del sorgere del sole che è sole anche metafisico che il viator vede nuovamente dopo il lungo buio infernale per cui sente l'animo dilettarsi alle occhi miei ricominciò diletto diceva nel sedicesimo verso del primo canto siamo la mattina di pasqua mattina di resurrezione l'animo esulta non solo del piacere della vista della luce ma anche della grazia che essa implica come sempre nella cultura medievale questi elementi naturali rappresentano valori spirituali ma l'esperienza del viator è collocata nell'universo di cui appunto si vede nella perifrasi astronomica la doppia condizione di luce e di buio proiettati in una dimensione cosbica ma anche redentiva la memoria di jerusalem infatti richiama la memoria degli eventi relative alla salvezza con la passione morte e resurrezione di cristo resurrezione avvenuta proprio al mattino come dante al mattino risorge a nuova luce e nuova vita rilevando una stretta analogia tra la vicenda personale del suo come quella dell'umanità redenta la vicenda di dante avviato alla priena conquista da libertà dal peccato è aperta ad una nuova prospettiva e la ferita la perifrasi indica dunque molto più che l'ora assimila la storia personale del poeta alla storia dell'umanità narrata dalle sacre scritture inoltre la variazione cromatica dal bianco e vermilio all'arancio che include pure un accenno alla mitologia serve a sottolineare la differenza tra il regno dall'aura senza tempo tinta come si diceva in inferno appena lasciato e quelle in cui la variazione del tempo è avvertita e segnalata spesso ancora un implicito cenno mitologico denuncia infatti l'ora poco più avanti tra le due azioni del canto quando il sole indicato come infallibile arciere a pollo alla caccia del capricorno si legge infatti più avanti i versi 55 e 57 da tutte parti saettava il giorno lo sol che aveva con le sette conte di mezzo al cielo cacciato capricorno il predominio della luce con le sue valenze spirituali viene confermata con un'ulteriore indicazione del tempo che determina il dominio del positivo questa nota introduttiva si chiude presto già al verso 12 infatti con un deitico d'effetto ed ecco di ascendenza scritturale virgiliana insieme inizia la prima parte dedicata all'arrivo delle anime in purgatorio con l'angelo nocchiero e il canto determinante del salmo 113 anche questa parte termina presto nonostante la sua importanza già al verso 52 inizia l'episodio di casella in cui da prima sono rappresentate le anime smarrite come il viator e la sua guida peraltro nel nuovo luogo sconosciuto quindi la sorpresa dell'ombra che il viator getta prima occasione in cui si rileva un dato così nuovo e così importante quindi l'incontro con l'amico cantore e la giustificazione del ritardo per il suo arrivo nel luogo del suo destino cui segue un momento di riposo con il canto di amor che nella mente mi ragiona infine il severo rimprovero di catone che chiude l'episodio e il canto molti sono gli aspetti rilevanti di questo canto ma focalizzerò la mia attenzione sui due canti ovvero qui in termini veramente propri sulle cose che si cantano ovvero quello del salmo dell'esodo figura biblica che dà significato a ciò che sta avvenendo a queste anime che liberate dalla schiavitù terrena e del peccato approdano nell'attraversamento che le porterà alla beatitudine finale nella patria designata per la felicità umana e il secondo canto quello della canzone del convivio che ha però ben altro valore dal precedente e viene infatti rifiutato dal guardiano non si tratta principalmente di rilevare l'importanza della musica che caratterizza tutta la cantica un aspetto molto studiato in questi anni ma di vedere piuttosto la funzione di questi canti che si rivelano di valore per l'intelligenza dell'intero poema tra l'introduzione temporale l'inizio dell'azione con il deittico ed ecco è incuneata una terzina che potrebbe parere superflua ma che invece dà il tono a tutto il canto noi eravamo lunghesso mare ancora come gente che va che pensa suo cammino che va col cuore e col corpo di mora anzitutto con un'espressione molto simile a purgatorio 1 118 noi andavamo per lo solingo piano la terzina consente di riagganciarsi alla narrazione precedente interrotta per il rito purificatorio quindi di indicarci lo stato d'animo dei protagonisti i pellegrini il viatore la sua guida nuova questo regno sostano pensosi sul cammino da intraprendere questa pausa motoria è anche pausa riflessiva che indica l'incertezza del momento e segnala la tensione psicologico conoscitiva che prende i pellegrini sulla soglia di questo nuovo regno si tratta di una condizione di incertezza che verrà indicata anche più avanti riflessa nelle anime appena giunte sull'isola che non sanno dove dirigersi e si interrogano silenti sulla via da percorrere si legge alle otta alle alla terzina 52 54 la turba che rimase lì selvaggia parea del loco rimirando intorno come colui che nove cose assaggia l'incertezza confermata da virgilio alla loro richiesta di direzione e virgilio rispuose voi credete forse che siamo esperti desto loco ma noi siamo peregrini come voi siete virgilio da qui una definizione del ruolo che vale per chi è lì al momento ma che è sensibile alla condizione umana in generale tesa verso la meta ultima per cui la vita terrena è solo passaggio temporaneo nella vita nova dante aveva definito peregrino chiunque fuori dalla sua patria anche se poi il senso era ristretto alle genti che vanno al servizio dell'altissimo distinguendo i palmieri che vanno in terra sante ne riportano la palma i pellegrini veri e propri diretti a san jacopo di campostela i romei che vanno a roma la condizione attribuibile all'umanità perché nella prospettiva cristiana pellegrini fondamentalmente siamo tutti in questa vita militante destinata a chiudersi con la morte e il passaggio alla vita eterna e pellegrine in purgatorio sono tutte le anime perché destinate al cielo la vera patria a questa incertezza sulla strada da percorrere si aggiungerà più avanti il ricordo nostalgico del passato che emerge con l'incontro tra casella e dante in cui molto è diretto a ricordare sia che si parli della ragione della lunga attesa di casella prima di essere traghettato sia che si ricordi l'amore che legava i due amici sia e soprattutto nell'intavolare il canto che il viato ricorda come consolatore e che rimette in gioco sia la poesia d'amore sia quella sapienziale sia le abitudini dei giovani amici anche se l'orientamento del purgatorio è verso la meta celeste il passato non è per dante obliato ma continua a far sentire la sua importanza con sentimenti di nostalgia di malinconia che suscitano il bisogno di consolazione e un allentamento della tensione per lasciare spazio ai sentimenti come peraltro verrà confermato durante tutta la cantica la salita insomma con diversi incontri da nino visconti a currado malaspina da sapia forese donati le anime il viator sono detti peregrini addirittura virgilio avoca a sé questa categoria come se sentisse parte di questo mondo orientato verso la meta finale di cui però non è parte la peregrinazza infatti del canto l'isotopia fondamentale ha indicato michelangelo piccone in un memorabile lettura le anime però sembrano incerte sanno che devono salire il monte ma sosteranno a godere il momento di condivisione del canto sono come quei viandanti descritti nel quarto trattato del convivio quando si parla del desiderio viandanti che si dilungano inutualmente nel percorso verso la meta lo smarrimento l'incertezza appaiono come il motivo unificante del canto e come tali impongono la persistenza della condizione terrena in questo momento di assaggio della nuova dimensione purgatoriale qui le anime più che dilungarsi nella via si dimenticano quasi obbliando a dire a farsi belle si legge al verso 75 prima si dedicano a udir novelle di calcardi nessun si mostra schivo poi a sentire il canto tutti fissi e attenti alle sue note con una tale contentezza come se a nessun toccasse altro la mente lo stesso casella invita il viator a posare quindi a fermarsi e non andare avanti e reciprocamente il viator invita casella ad arrestarsi come se non dovessero proseguire per la loro penitenza ed esito finale sarà il guardiano catone a stimatizzare la negligenza a imporre l'abbandono di questa dimensione terrena persistente e indicare quindi l'urgenza di un'altra direzione la tensione verso la beatitudine a cui sono diretti non cancella il ricordo delle cose pensate che sono presenti nel canto in modo molteplice ma esse sono necessarie per creare quella palinodia del passato che è l'essenza come vedremo di tutto questo canto e ancora alla fine quando catone sollecita a indirizzarsi verso il monte con un aspro rimprovero le anime si muovono con muon che va ne sa dove riesca a confermare lo stato d'animo incerto sospeso e pensieroso dei pellegrini in questo nuovo regno ma se abbiamo in questo modo diciamo delineato il clima malinconico e riflessivo che caratterizza tutto il canto vediamo ora che cosa veramente succede nel canto infatti la stasi l'incertezza è intorno rotta da una serie di eventi no anzitutto abbiamo l'arrivo della barca con l'angelo nocchiero che porta le anime sull'isola che appare come un fenomeno decisamente meraviglioso e leggiamo i versi che sono dedicati ed ecco qual sorpreso dal mattino per li grossi vapor marte rosseggia giù nel ponente sopra il suol marino cotal mapparve sia ancora lo veggia un lume per l'omar venirsi ratto che il muove il suo nessun volar pareggia sul mare che circonda l'isola con il suo quieto luccichio appare dunque ora una luce ancora lontana che si muove velocissima come in volo che apparirà poi come una barca condotta da un angelo e carica di più di un centinaio di anime ancora si deve segnalare la rappresentazione coloristica la luce rosseggia come marte su uno sfondo aurorale e luminoso non sarà un caso che sia richiamato qui anche se solo per comparazione marte a cui nel convivio era associata la musica e leggo dal secondo trattato e lo cielo di marte si può comparare alla musica anticipandoci quello che avverrà poco oltre quando la canzone obnubila gli spiriti infatti marte sono menzionati nel convivio proprio per i suoi vapori che ricordano i vapori qui menzionati associati all'effetto della musica ma avremo modo di ritornare su questo la rappresentazione della barca in arrivo è condotta secondo una tecnica molto moderna che qualcuno ha definito cinematografica cioè piccone sembra michelangelo questo straordinario commentatore del canto scandita in tre fotogrammi successivi il primo una luce sulla linea dell'orizzonte che si accresce nel giro di pochi secondi in secondo luogo la percezione di una forma per questa luce in terzo luogo la piena apparizione dell'uccel divino con il suo vasello snelletto leggero non solo la rapidità con cui si si approssima alla riva è sorprendente tanto da poter parlare di un volar ineguagliato nessun volar pareggia che è collocabile tra una navigazione aerea e un volo marino ma anche le modalità con cui si muove sono inusuali ben segnalate peraltro da virgilio non remi non vele ma un'energia celestiale ed eterna muove la barchetta vedi che sdegna gli argomenti umani siccheremo non vuol né altro velo che l'ali sue tra litisi lontani vedi come la dritte verso il cielo trattando l'aereo con l'eterne penne che non si muta come mortal pelo virgilio segnala anche la novità della presenza angelica annunciando pure che questo si ripeterà o mai vedrai di sì fatti ufficiali questo è solo il primo caso della comparsa di un angio di un ministro di dio dunque si segnala anche la differenza con quei custodi dell'inferno che sono demoni qui abbiamo gli ufficiali di dio addetti a un compito alto in ottemperanza una volontà superiore per cui occorre reverenza ben indicata dall'invito a inginocchiarsi e aggiungere le mani in atto di preghiera piccone ha ricondotto questa creazione dantesca alle nave magiche medievali e in effetti ha molto del magico ma più che ricondurre il pensiero del lettore alle ambagie spulcherrime degli romanzi cavallereschi in cui sono presenti barche magiche la rappresentazione indica gli elementi del soprannaturale che entra in questo evento la luce altra luce oltre a quella del sole e creatura divina e l'angel di dio c'è il divino e celestial nocchiero degno di rispetto e venerazione che porta questi spiriti senza che la barca nel senso del peso sebbene siano più di cento l'acqua nulla né inghiottiva gli elementi di questa barca sono ben lontani dalle barche magiche di cui pure parla dante in un sonetto della vita nuova guido io vorrei che tu e l'ape dio ma proprio la lontananza tra le due determina il rifiuto della prima collaborando a definire ulteriormente la palinodia che si realizza in questo canto dove tutto rinnova il passato e lo condanna alla nostalgia e infine al rifiuto evidente è anche l'opposizione alle nave infernale di caronte e di coniate sul modello virgiliano ma qui determinante è soprattutto il passaggio che ha ascendenza biblica si intravede qui il prototipo della nave cristiana memoria sia dell'arca di noè sia della navicola evangelica che accoglie cristo i suoi discepoli dante riscrive cioè in chiave sacra il motivo profano della nave magica il vasello condotto dall'angelo porta le anime della foce del tevere dove si adunano dopo la morte lo si dirà più avanti nel verso 101 al loro destino ultimo ma di preparazione l'attraversata finale verso la beatitudine purgatorio è solo un passo passaggio nel destinazione al paradiso come ragione dell'opzione di radunarsi sulla foce del tevere la critica ha proposto io credo in modo convincente che questa dia rilievo alla chiesa di roma come tramite della salvezza in quanto considera il pontefice successore vicario di cristo i più di cento spiriti sul vasello cantano tutto il 113 che ricorda la liberazione del popolo di israele dalla schiavitù d'egitto in esito israel d'egipto cantava tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo e poscia scripto il mare dell'esodo è assunto così a referente metaforico della seconda cantica e non solo ma esso indica il significato anagogico di tutto il poema la citazione del salmo 113 un passo di particolare rilievo nell'opera dantesca perché ripreso in altri due casi per suggerire modalità di lettura e interpretazione del poema appunto l'episodio biblico è usato già nel convivio nel passo sull'allegoria per mostrare l'applicazione dei quattro sensi della scrittura e viene richiamato nella lettera esegetica can grande della scala come modello per la lettura del poema e per esemplificarne il calattere polisemico dante non cita esodo ma il salmo sull'esodo perché il salmo è poesia sull'evento come lo è la commedia che impiega in questo canto lo stesso salmo come poesia del e sul transito il senso anagogico sovrasenso funziona qui per il viator e per le anime ora redente in purgatorio indicando il passaggio come un passaggio peccato alla libertà dell'essere avviato verso il ritorno alla beatitudine o felicità promessa con la creazione questo momento ha una valenza macro testuale e programmatica per il poema intero come ha da tempo indicato singleton che sottoneava come l'esodo sia la figura della conversione e dimostri come dante sia sulla via del suo e personale esodo ma anche che l'esodo si riattualizza in dante e in ogni anima che si converte l'esodo del popolo ebraico dall'egitto alla terra promessa è il pattern cioè il modello profondissimo che regola la stessa composizione della commedia l'esodo che ha segnato la storia del popolo eletto viene ricordato nella cerimonia pasquale della benedizione dell'acqua e del fuoco perché prefigura l'idea del battesimo la libertà dal peccato il sacramento della libertà dal peccato già agostino aveva mostrato come l'esodo fosse una tipologia della liberazione per il credente e per l'umanità intera non dobbiamo mai dimenticare che il purgatorio è il regno della libertà libertava cercando si dice nel primo canto del viato e libero sarà coronato dante da virgilio sulla cima della montagna nel ventisettesimo canto il salmo era decantato come abbiamo detto nella liturgia della notte della veglia pasquale ultimo di cinque salmi per cui la critica anche ipotizzato i commentatori che le anime cantassero nel viaggio tra il tevere e l'isola proprio tutti i cinque questi cinque salmi della notte pasquale che prefigurano la resurrezione di cristo tutto quanto è fortemente trascendentale il mare non è solo un connotato paesaggistico ma è fortemente simbolico il viaggio in purgatorio è segnato da un incipit chiarissimo percorrere migliori acque si diceva all'inizio della cantica ed effettivamente il mare purgatoriale è un mare ben diverso dal mare di cui si connotavano alcuni passaggi della prima cantica dall'acqua perigliosa del pelago del primo canto verso 24 al mare in cui naufraga ulisse del canto 26 questo mare infatti collegato appunto al mar rosso quello del passaggio del popolo di israele sotto la guida di mosè verso la terra promessa il mare che le anime debbono attraversare non è periglioso perché un occhiero una barca angelici consentono la traversata il viaggio avviene come per gli ebrei nell'evento scritturale dell'esodo sotto la protezione divina lo stesso mare che lascia passare il popolo di israele si era chiuso sul faraone sugli egizi che lo inseguivano travolgendole con i loro carri e i loro cavalli come si legge nel capitoli 14 15 dell'esodo ma aveva consentito agli sdradiliti di prodare infine alla patria la terra promessa al padre abramo il luogo della libertà la casa dei padri questo mare chiudulisse nei suoi gorghi ma lascia passare la barchetta il vasello il salmo dà il via dunque ad una nuova poesia fortemente biblica e oserei dire salmica per la frequenza dei salmi che saranno citati in seguito nella cantica a ogni passaggio di cornice si richiamano ci richiamo i versetti dei salmi non è da stupirsi se dante usa così di frequente il salterio in quanto i salmi sono stati fondamentali della testi fondamentali della preghiera cristiana introdotti presto nella recitazione del breviario e di largo uso nel tardo medioevo come attestano i numerosi manoscritti del solo salterio e i precoci numerosi volgarizzamenti dei salmi sia penitenziale sia in genere diffusi nella toscana del tempo qui il salmo è cantato tutto e viene pure sottolineato il modo di cantare all'unisono un modo che evidentemente si pone in contraddizione con le voci discordanti dell'inferno il secondo regno ancora non è la festa di luce in armonia quella concordia musicale di affetti come il paradiso dove la diversità delle voci fanno dolci note e rendono dolce armonia tra queste rotte come si legge nel canto sesto ma si prepara ad esserlo nel purgatorio le anime cantano insieme si interrompono si distraggono come avviene nelle liturgie terrene evidentemente però al loro canto è sosteso lo spirito di unione e di fratellanza che si realizzerà perfettamente nel regno dei beati anche l'accesso alla spiaggia assomiglia a un rito che non riguarda direttamente però dante infatti l'angelo nocchiero benedice le anime con il segno della croce poi face il segno l'ordi santa croce ondei si gittar tutti sulla piaggia e del senji come venne veloce la croce è il segno della salvezza della redenzione avvenuta in quanto il passaggio alla libertà dal peccato si realizza in cristo il mare che circoda il purgatorio è conoscibile attraversabile solo con la redenzione di cristo come viene indicato in paradiso nel canto settimo dove dante spiega il senso del sacrificio della morte del figlio di dio come unica possibilità di bilanciare la bilancia sbilanciata dal peccato originale con un cenno all'ora del giorno le saette del sole e lo smarrimento delle anime appena giunte selvaggia parean del loco inizia la seconda sequenza del campo del canto a cui ora ci dedichiamo ovvero l'incontro del viator con queste prime anime anzitutto le anime si meravigliano per il corpo del di dante del viator e reagiscono con curiosità ovviamente alla scoperta che gli possiede ancora quel corpo che loro hanno lasciato dal gruppo si muove un'anima che abbraccia il viator e provoca simile reazione affettiva tre volte dietro a lei le mani avvinse e tante mi tornai con essa al petto per la prima volta si prende atto che queste sono ombre inconsistenti in inferno le anime erano molto legate alla pena corporale tanto che non si era considerata questa realtà del mondo dei morti anche se nel girone dei golosi si diceva che si camminava sopra l'urbanità che par persona canto sesto dell'inferno e seguiva una riflessione sulle risultanze della risurrezione dei corpi per i dannati sempre nello stesso canto qui invece è ben evidenziata e persino spiegata nel canto successivo quando il viato si preoccupa di essere abbandonato non vedendo l'obra di virgilio riprendendo reminiscenze classiche da eneide dal quando enea tenta un triplice abbraccio all'ombra della moglie creusa e poi a quella del padre anchise viene qui rappresentata con la stessa formula il vano triplice abbraccio non sembra che dante abbia riconosciuto l'amico subito almeno l'abbraccio è una reazione istintiva al suo gesto ma il riconoscimento viene presto e casella musico e cantore fiorentino di cui si hanno anche alcune notizie la serenità della spiaggia purtatoriale appena raggiunta dopo l'affanno infernale suggerisce a dante di chiedere all'amico musico di cantare come in altri tempi quel canto che solea quetar tutte sue doglie casella intona amor che nella mente mi ragiona la canzone che introduce il secondo trattato del convivio ma risalente ai tempi della vita nuova una canzone lodata nel devulgare eloquenzia per il gradum costruzioni excellentissimo si legge nel secondo libro del trattato sulla lingua una canzone che presenta molti addentellati con altri testi della stagione stilnovistica di dante il momento infonde consolazione dolcezza e sottolinea ripetutamente quasi a chiasmo questa condizione raggiunta amor che nella mente mi ragiona cominciò a le allorsi dolcemente che la dolcezza ancora dentro mi suona il grande fascino della voce di casella proviene dalla natura amorosa di un canto ricco di virtù terapeutiche in effetti se da un lato la sua canzone rappresenta un grande pericolo per l'anima come ci dimostrerà catone poi alla fine dall'altro costituisce anche una medicina di tipo analgesico inoltre è evidente che le parole agiscono sull'animo con la musica ma è questa anzitutto ad occupare lo spirito del viato realizzando quanto nel convivio era dichiarato che la musica e cito dal convivio trae a sé gli spiriti umani che quasi sono principalmente vapori del cuore il collegamento coi vapori di marte che è il pianeta della musica sì che quasi cessano da ogni operazione sì che l'anima intera quando lode e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono ma proprio per questa ragione la scelta del canto è determinante se la musica e con essa il canto assorbe totalmente qui dante impegna diciasse impegna in una riflessione proprio sul suo significato in questa nuova realtà sotto nuova legge lo dice no se nuova legge dovrà essere la musica sacra l'oggetto dell'anima non la musica profana né d'amore né di filosofia i critici hanno sottolineato i tempi di composizione di questa canzone che sebbene assegnata a convivio risale appunto ai tempi della vita nuova quindi appartiene alla stagione giovanile della poesia innamorosa dei primi anni 90 seguendo questo indica oltre che l'impostazione stilnovistica anche la modalità di esecuzione trobadorica come alcuni studiosi hanno sottolineato e pensa però c'è la canzone pone anche in campo una stagione della vita poetica di dante che qui indicata come consolatrice portatrice di dolcezza insomma verso cui egli prova appunto intensa nostalgia però la sua piacevolezza verrà poi tacciata come causa di distrazione e negligenza dante fa così retrocedere la macchina del tempo all'epoca in cui componeva canzoni d'amore per beatrice per la una gentile ma soprattutto pone in opposizione il canto profano al canto salvifico consono al regno i due canti cioè in esito israel egitto e amor che nella mente mi ragiona si presentano nettamente in posizione dicotomica fin dall'avvio perché tutte le qualifiche del canto di casella sono inadatte alla nuova realtà in cui il canto dovrebbe essere corale penitenziale liturgico spirituale nello stesso tempo la musica appare come un elemento significativamente programmatico proprio a partire da questo canto e per tutta la cantica qui si oppongono due modi di fare musica oltre che due contenuti diversi un modo corale devoto come avviene per il salmo cantato tutti insieme ad una voce contro un modo individualizzante obnubilante cantato da un musico che affascina con la sua esecuzione ma allontanando le anime dal loro scopo principale il canto corrobora la funzione di questi episodi accompagnando il cammino del viator verso la sua perfezione non come sottofondo ma come interazione efficace si realizza cioè una nuova poesia come era stato indicato dai primi versi del purgatorio ma non insomma che nell'invocazione quella che casella intona è la canzone introduttiva come abbiamo detto del terzo cantato del convivio e proclama la natura filosofica di amore se l'amore per la donna gentile era stato già condannato da beatrice nella vita nuova apparsa in visione come contrario alla ragione ora riceve un'ulteriore condanna nel libello giovanile si legge contra questo avversario della ragione si levò un die quasi nell'ora della nona quindi l'ora di beatrice una forte immaginazione in me che mi parve vedere questa gloriosa beatrice con quelle vestimenti sanguigne con le quali apparve prima gli occhi miei lo mio cuore cominciò dolorosamente a pentere dello desiderio a cui civilmente si aveva lasciato possedere al quanti die sopra la costa contra la costanza della ragione in purgatorio l'amore per la filosofia è nuovamente condannato perché contrario alla solicitudine che deve spronare verso l'incontro con dio e con questo episodio rinnovata la condanna della via filosofica alla salvezza quella che ha indotto all'abbandono del convivio una forma d'amore deviante dalla dritta ragione che non conduce alla vera felicità alla via filosofica all'attribuzione di obiettivi alti alla speculazione dante aveva dedicato tutto il trattato filosofico lasciato poi incompiuto evidentemente per un'insoddisfazione radicale infatti casella non può andare avanti perché il guardiano catone interviene con il suo rimprovero condannando la sosta e con essa anche la canzone scelta che è ciò spiriti lenti qual negligenza quale stare questo la condanna di catone varrebbe dunque per ambedue le esperienze poetiche precedenti il poema sia quella amorosa sia quella filosofica l'amor costese era però già stato condannato con francesca con l'episodio di francesca nel quinto canto dell'inferno qui è l'amore per la filosofia non peccaminoso non mortale ma distraente negligente quindi comunque da accantonare e non sarà un caso che il canto terzo cioè del purgatorio quel successivo inizi con un'avvertenza sui limiti del sapere filosofico matto è chi spera che la nostra ragione possa trascorrere la infinita via che le tiene una sostanza in tre persone si legge nel canto terzo ai versi 34 36 quella che quel sapere sulla trinità che ciò che conta che necessita per la salvezza per cui poco vale la filosofia di aristotelo di plato e di molti altri no si dice poco più avanti nel canto terzo sempre che hanno per lutto eterno l'impossibilità di soddisfare il desiderio di conoscenza sarà la semplice piccarda ad avere scelto il solo amore giusto completo quello che rende l'anima in grado di vecchiare dormire con lo sposo e quindi che porta alla salvezza il rilievo che viene dato qui al tema d'amore è mostrato infatti in una lettura verticale che si può applicare a tutto il poema sul modello di quanto dante stesso ci indica con i sesti canti politici qui non sono i canti in senso numerale ad essere in accordo possiamo invece anzi possiamo dobbiamo guardare per completare un po il circolo ermeneutico del nostro canto agli altri canti corrispondenti ovvero agli altri primi dialoghi che si svolgono nelle altre due cantiche con cui si possono evidenziare evidenti corrispondenze in effetti il primo dialogo con un'anima che appartiene al regno dei purganti casella mette in questione il tema d'amore non più quello stilnovistico cavalcantiano cortese come nel canto di francesca ma uno tutto dantesco non erroneo ma ritardante si tratta dell'amore per la donna gentile o la filosofia che compare già nel capitoli conclusivi della vita nuova francesca è la prima anima con cui dante parla nel regno dei morti di doppia morte non parla colui che fece il gran rifiuto non parlano i grandi del limbo parla caronte ma è guardiano non anima giudicata il primo dialogo che dante svolge nel suo viaggio tematizza dunque la questione cruciale per dante l'amore ormai da una prospettiva diversa rispetto alla vita nuova non più individuale e soggettiva e sperimentata personalmente ma oggettivizzata nell'esperienza altrui in purgatorio è condannato l'amore per la filosofia in questo canto perché contrario alla solicitudine che deve spronare l'anima verso l'incontro con dio e con questo episodio di casella rinnovata la condanna della via filosofica alla salvezza quella che aveva indotto all'abbandono del convivio una forma d'amore deviante dalla dritta ragione la questione sembra ripresa in quello che è il primo dialogo paradisiaco nell'incontro appunto con piccardo adonati nel terzo canto della terza cantica molti sono i temi di questo colloquio non ultimo la condanna dei guelfi neri ma tra l'esaltazione della carità che domine il nuovo regno e la descrizione delle sue caratteristiche a spazio nelle parole della donna anche la presentazione della sua scelta di vergine sposa amante di cristo la sua scelta appare come lo stadio finale perché più perfetto del cammino dell'anima verso la sua ragione e felicità che è dio o del cammino di amore verso la sua più piena e totale realizzazione o del cammino del poeta verso la più compiuta delle poesie o del cammino di ogni essere umano verso la sua perfezione amore in paradiso è tutt'altro che assente ma ricorrente definizione di dio fino al finale amor che muove il sole alle tre stelle di parosioso 33 145 che chiude il poema con l'immagine di un dio motore anche del cammino poetico di dante vegliare dormire con lo sposo che è cristo è appunto la realizzazione di quell'amore di amante amata cantato nel cantico dei cantici libro biblico di cui san bernardo chiamato a guidare dante nella visione ultima aveva condotto un esegesi molto divulgata come figura dell'amore reciproco tra la chiesa e cristo ma anche dell'anima e cristo che è l'amore realizzato da tutti i beati è solo a questo punto che dante chiude la sua ricerca amorosa e che noi lettori possiamo capire che il cammino iniziato per intraprendere lo svolgimento per interpretare scusate lo sconvolgimento dei nove anni passato attraverso successivi tentativi di compressione a termine casella è il primo personaggio del nuovo regno incontrato dunque il corrispondente di francesca e di piccarda che tratta di una tipologia di amore che molto aveva affascinato dante al punto di fargli dimenticare beatrice ma un amore sviante nel purgatorio vige nuova legge che il nostalgico dante ha intuito infatti prima di chiedere a casella di cantare dice se nuova legge ma che non sa applicare subito non ha capito che ogni dimensione terrena è vana il riprovero di catone realizza altresì un simbolico contrappasso tra purgazio animi e poesia amorosa dantesca segnando la liquidazione definitiva del ciclo della donna gentile alla quale per espressa dichiarazione d'autore la canzone era rivolta amore mente sono qui coinvolti l'uno possiede l'altra e posseduta ma non dall'amore corretto che muove il sole all'altra stelle ma da quello sviante di una conoscenza limitata come quella di aristotele e platone attraverso il colloquio con l'amico musicista dante non vuole tanto commemorare gli anni felici della sua giovanile formazione artistica quanto offrire una testimonianza relativa a un momento critico della sua esperienza intellettuale passata quando ha ceduto alla sua passione conoscitiva enciclopedica quando il suo ardore ulissiaco a seguir virtù e conoscenza lo hanno portato al drammatico naufragio della ragione descritto nella scena iniziale della commedia così catone richiama la sollecitudine dell'amore divino che elimini quelle tracce di altri interessi rappresentati qui dallo scoglio che sia esso la macchia del vizio come intendono i commentatori antichi che aggrava l'anima o che sia il luogo simbolico dove sostano le sirene che attraggono con il loro canto o che sia una ennesima conferma della connotazione ancora terrena di questo approccio dei pellegrini al purgatorio come vuole la critica moderna di fatto il cammino penitenziale concepito per liberarsene per acquisire quella perfetta libertà dalle inclinazioni del peccato ma anche dalle cose svianti che i progenitori hanno lasciato all'umanità con la loro colpa la similitudine che chiude il canto mostra una scena assai umile i colombi che becchettano e sono spaventati da qualcosa di improvviso e quindi si disperdono naturale rapportare questi colombi e colombi del canto quinto dell'inferno a cui sono comparati coloro che si sono fatti dominare dal talento tutto il linguaggio di questi teccanti intendo inferno quinto purgatorio secondo e paradiso terzo intrecciato con molte riprese e corrispondenze la similitudine dei colombi le due similitudine confermano che di un momento erroneo si tratta il canto si chiude ancora con una sospensione dall'obiettivo le anime si disperdono come le coloro che non sanno dove andare non sa dove riesca che non conoscono una direzione non una sosta ma un'incertezza sviante sebbene non pensosa il canto si presenta quindi proiettato su due dimensioni quella del passato che appare come nostalgia rimpianto memoria che ancora occupa l'anima e quella del futuro che si impone per la natura palinodica di quanto è implicato dal vasello che viaggia tra l'oriente tra l'occidente e l'oriente richiamando la barca di ulisse il suo naufragio perché erronea non voluta da dio era la ricerca di ulisse al rifiuto della poesia amorosa e sapienziale bocciata da catone il canto mostra una svolta radicale nei valori che erano stati anche i valori del giovane dante affascinato da un sapere terreno non conforme all'obiettivo della felicità celeste e quello indusse quindi lo che lo induce scusate in questo momento a frenare lo ingegno perché non corra più che virtù non guidi quindi a rinunciare all'abitudine all'amoroso canto che soleva coetare tutte le sue voglie da una parte il vasello mostra il percorso di successo verso la montagna dall'altra il canto del salmo 113 mostra quale debba essere la vera poesia la vera occupazione sembrerebbe questa un'anticipazione del danno della negligenza che sarà proprio la caratteristica delle anime che si incontreranno in questo antipurgatorio anime che hanno tardato tanto a pentirsi e che poco si sono attivate per il bene e vi ringrazio per l'attenzione ora apporgiamo la nostra attenzione alla lettura del canto già era il sole all'orizzonte giunto lo cui meridian cerchio coverchia Jerusalem col suo più alto punto e la notte che opposita lui cerchia uscìa di gange fuor con le bilance che le caggion di man quando soverchia sicché le bianche le vermiglie guance la dio viera della bella aurora per troppetate divenivano rance noi eravamo lunghezzo mare ancora come gente che pensa suo cammino che va col cuore e col corpo di mora ed ecco qual sorpreso dal mattino per gli grossi vapor marte rosseggia giù nel ponente sopra il suol marino cotal mapparve sia ancora lo veggia un lume per l'omar venirsi ratto che il muover suo nessun volar pareggia dal qual com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo duca mio rividi il più lucente maggior fatto poi d'ogni lato adesso mappario non sapeva che bianco e di sotto a poco a poco un altro a lui uscìo lo mio maestro ancora non facciamo otto mentre che i primi bianchi apparaverali allora che ben conobbe il galeotto gridò fa fa che le ginocchia cali ecco l'angel di dio piega le mani o mai vedrai i sifatti ufficiali vedi che sdegna gli argomenti umani siccheremo non vuolne altro velo che l'ali sue traliti si lontani vedi come la dritte verso il cielo trattando l'aere con l'eterne penne che non si muta come mortal pelo poi come più e più verso noi venne l'uccel divino più chiaro appariva perché l'occhio da presso non sostenne ma chi ne ha il giuso e quei se in ben arriva con un vasello snelletto leggero tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva da poppa stava il celestiano occhiero tal che faria beato pur descritto e più dicendo spiriti entro sediero in esito israel d'egipto cantavano tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo eposcescripto poi feci il segno l'or di santa croce ondei si gittar tutti sulla spiaggia e del sengì come venne veloce la turba che rimase lì selvaggia parea del loco rimarando intorno come colui che nove cose assaggia da tutte parti saettava il giorno lo sol cavea con le sette conte di mezzo al cielo cacciato capricorno quando la nuova gente alzò la fronte per noi dicendo a noi se voi sapete mostrate nella gia la via di gira al monte e virgilio rispuose voi credete forse che siamo esperti d'astroloco ma noi siamo peregrini come voi siete di anzi venimmo innanzi a voi un poco per altra via che fossi aspre forte che lo salire ormai ne parrà gioco l'anime che si fuor di me accorte per l'ospirare chi era ancora vivo maravigliando diventaro smorte e come messagger che porta ulivo trage la gente per udir novelle e di calcar nessun si mostra schivo così al viso mio saffisar quelle anime fortunate tutte quante quasi obbliando dire a farsi belle io vidi una di lor trarsesi avante per abbracciarmi così grande affetto che mosse me a farlo similiante oi ombre vane fuor che nell'aspetto tre volte dietro lei le mani avvinse e tante mi tornai con esse al petto di maraviglia credo mi dipinsi perché l'ombra sorrise e si ritrasse e io seguendo lei oltre mi pinse suavemente disse che io posasse allora conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse rispuose mi così con mio tamai nel mortal corpo così stiamo sciolta però mi arresto ma tu perché vai casella mio per tornare altra volta là dove io son fu io questo viaggio dissi io ma te com'è tanta ora tolta ed egli a me nessun mi è fatto il traggio se quel che leva quando e cui gli piace più volte ma legato esto passaggio che di giusto voler lo suo si face veramente da tre mesi elle ha tolto che ha voluto entrare con tutta pace un dio che era la ora la marina volto dove l'acqua di tevoro si insala benignamente fui da lui ricolto a quella foce a elle or dritta l'ala però che sempre qui vi si ricoglie qual verso a che ronte non si cala e io se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea quetar tutte mie doglie di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia che con la sua persona venendo qui è affannata tanto amor che nella mente mi ragiona cominciò elle allorsi dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona lo mio maestro io e quella gente che era con lui parevan si contenti come nessun toccasse altro la mente noi eravamo tutti fissi attenti alle sue note ed ecco il veglio onesto gridando che è ciò spiriti lenti qual negligenza quale stare questo correte al monte a spogliarvi lo scoglio che se non lascia a voi dio manifesto come quando cogliendo biado o l'olio li conombe adunate alla pastura queti senza mostrar l'usato orgoglio se cosa appare ondelle abbian paura subitamente lasciano star l'esca perché assaliti son da maggior cura così vi dio quella masnada fresca lasciarlo canto e fuggir per la costa comunque va ne sa dove riesca nella nostra partita fu mentosta non è vero non è vero non è vero non è vero non è vero